Mi succede qualcosa di particolare, non è che lo dico io, lo dice Cristina, e leggiamo insieme la sua domanda. Mi succede una cosa strana, quando guardo le due carte ho delle sensazioni ma non riesco a dire il significato della coppia. Paradossalmente questo aspetto è presente anche nei lettori di carte più scafati, ovvero guardano le carte e a volte si bloccano nel verbalizzare il simbolo, c'è proprio un problema nella verbalizzazione simbolica. Perché questo avviene? Per tante ragioni, per esempio potresti essere una persona estremamente intuitiva che in tre secondi netti capisce il messaggio che vuole mandare il tarocco ma questo stride un po' con la parte razionale, quindi percepisci questo blocco e ti fermi, non riesci a tirare fuori proprio quella parolina che ti serve. Oppure non sai parlare, può anche capitare, non sei in grado proprio di parlare, non sei abile nell'eloquio. O ancora, le carte ti rimandano un messaggio che è completamente l'opposto di quello che pensavi. Ecco, appena le vedi hai questo cortocircuito. Soprattutto se sei un nuovo lettore di carte, che non sei scafato più di tanto, non hai molta esperienza, tenderai ad assorbire la parte intuitiva e a far prevalere la ragione. Perché quando qualcosa non ci ritorna noi facciamo questo, ci blocchiamo e mandiamo avanti la logica. Questo è l'inizio della fine. È l'inizio della fine perché ogni consulto di carta è un 50 e 50, un 50% logica e un 50% intuito. Ora, so benissimo che la ragione ragiona, quindi la voce della ragione è proprio una voce, può essere una tua voce interiore, un ragionamento, una logica. Di contro l'anima non conosce parole, sai benissimo che è l'espressione dell'anima perché procede, come hai detto tu, per sensazioni. Una sensazione di agio è l'anima che dice ok, una sensazione di disagio è l'anima che dice stai un attimo, ferma, ragionaci meglio, pensa un attimino. Purtroppo, per te, per noi studiosi, per tutti, come dicevo pochi anzi, una buona lettura di tarocchi parte anche dalla ragione. Questo per diversi motivi. Il primo perché se stai facendo un consulto, quindi esterno, è normale che devi parlare, non è che puoi andare perversi, no? L'anima ti dice delle cose e tu vai perversi. E il secondo perché noi esseri umani siamo esseri nel mondo e quindi abbiamo questa parte, già citata, ragione o razionalità, che per dare per buono qualsiasi tipo di messaggio che proviene dall'anima o dall'intuito deve far sì che questo sia processato dalla logica. Non esiste messaggio che entri nel tuo inconscio che non sia processato dalla logica, così come non esiste messaggio che può essere preso per buono a livello inconscio che non sia stato processato dalla ragione. Ecco perché è un problema, amica mia, questo aspetto, cioè questo cogliere il messaggio ma non verbalizzarlo. Con tarò il calendario non puoi procedere solo per sensazioni. Come ci si lavora? Una volta che hai estratto il 2, prova a scrivere non solo il suo significato ma anche proprio una frasetta stringata di quello che potrebbe essere per te una buona decodifica della coppia. Ovviamente non andare sempre a leggere quella che ho scritto io, altrimenti ti stai autodepistando. A fine giornata controlla come è andata, quindi se quella coppia è riuscita a entrare in risonanza non solo con la tua giornata, con le frequenze della tua giornata, ma anche come hai scritto in modo stringato, come hai riportato con la tua frasetta queste frequenze e vedi cosa puoi modellare. Amica mia, è un esercizio di pratica, 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 pratica. Non esiste rito, non esiste rimedio alternativo che ti possa aiutare in tal senso. Detto questo, grande abbraccio. Se non hai ancora tarò il calendario, sei una brutta persona. Clicca sull'offerta nell'info box. Se funziona, offerta è attiva. Se non dovesse funzionare, non è che l'offerta è passiva, è semplicemente scaduta. Clicca sull'offerta. Grazie per la visione!